Al segretario regionale della CGL Alfio Cimino vorremmo chiedere il suo parere a proposito del fatto che ormai i rapporti tra il sindacato nazionale, quindi la CGL e la prefettura di Siracusa sono un po' ai ferricorti vista l'ultima vicenda riguardante la Karel Lukoil. Ora sicuramente il caso è diventato probabilmente da locale a nazionale, è diventato probabilmente anche internazionale, vorremmo il suo parere su questa questione. Sì perché qui non c'è dubbio che le ragioni che hanno determinato quell'ordinanza non sono il frutto di valutazioni che riguardavano l'ordine pubblico perché non ci pare che ci fossero stati casi di violenza del genere tale che la giustificassero appunto con le ragioni di ordine pubblico. Qui le vicende che stanno emergendo invece che c'è stata una sollecitazione da parte delle istituzioni di un altro paese che hanno chiesto all'Italia di determinarsi in un certo modo. Tra l'altro va anche detto che anche là le questioni poste erano questioni tutta di natura economica e riguardavano gli interessi economici di alcune multinazionali. E quindi non c'è dubbio che qui sono stati calpestati i principi elementari giuridici per piegarsi alla volontà di istituzione di altri paesi. Adesso abbiamo Luciano Silvestri della sederia nazionale con un incarico però molto importante che riguarda legalità e sicurezza. A lui poniamo in pratica la stessa domanda di prima. Quindi dal caso che poteva sembrare locale si è passato in un caso nazionale vista anche la sua presenza. Fin dall'inizio abbiamo assunto quanto stava accadendo qui a Siracusa come una vicenda che aveva un interesse nazionale perché non possiamo assolutamente rischiare che si determini un precedente, un precedente molto pericoloso per i diritti di chi esercita l'attività sindacale e innanzitutto per i lavoratori. E questo esercizio democratico sostanzialmente abbiamo ritenuto che l'ordinanza lo mettesse e lo mette sostanzialmente in discussione. Per questo dico subito che dopo l'ordinanza del TAR noi ci siamo convinti a maggior ragione leggendo i contenuti di quell'ordinanza di fare ricorso a livello superiore, cioè a livello regionale, fino al Consiglio di Stato. Lo dico subito per mettere in pace gli animi. In secondo luogo fin dall'inizio abbiamo visto questa vicenda dell'ordinanza come una sorta di sbarramento a normali relazioni sindacali che prima di tutto hanno interesse a risolvere i problemi di questo territorio, del mondo del lavoro e della prospettiva occupazionale di questo territorio. Quindi ci siamo opposti anche e soprattutto per questa ragione. Poi mi pare del tutto evidente che i fatti, le lettere stesse che il prefetto ha portato a sua discolpa dimostrino come quell'ordinanza non sia stata emessa per una ragione di ordine pubblico o perché era rimesso in discussione la sicurezza degli impianti. Niente di tutto ciò, ma è stata emessa a fronte di pressioni esplicite che sono state espresse in quei documenti tese a giustificare fuori dalla cornice costituzionale del diritto del lavoro una presa di posizione come questa. È vero che l'ordinanza è temporanea, è per cinque mesi ma ci siamo opposti e continueremo ad opporci a questo la vogliamo rimettere in discussione perché proprio da temporanea magari qualcuno non abbia in testa e intenzione di farla diventare definitiva. Adesso abbiamo il segretario provinciale Roberto Losi non è diventata più una questione di casa nostra questa vicenda a quanto pare? Non c'è dubbio, la vicenda esplode a casa nostra ma ha ripercussioni di carattere nazionale per certi aspetti addirittura internazionali. Ci lascia sgomenti il fatto di scoprire che in questo territorio nella complessa area industriale nostra ci possa essere stata un'ingerenza così pesante da parte in questo caso della Federazione Russa rispetto ad una dinamica di confronto sindacale che abbiamo sempre condotto con la massima trasparenza e col massimo senso di responsabilità. La vicenda emersa è inquietante crediamo e riteniamo che segni una ferita profonda a tutto il nostro territorio e non solo all'area industriale parli all'insieme dell'articolazione politica di questo territorio e non solo ma all'articolazione anche del sistema datoriale del potere amministrativo, delle istituzioni che si sentono profondamente mortificate da un governo che pensa di dettare inopinatamente una linea indifferentemente da quelli che sono i vincoli che la nostra Costituzione e il nostro quadro normativo impone. Noi pensiamo che Siracusa meriti altro che ha sempre dimostrato grande accoglienza nei confronti degli imprenditori stranieri ma pretendiamo da questi il rispetto di una responsabilità sociale il rispetto di un territorio e la capacità di autodeterminarsi di un territorio che punta ancora sull'industria ma su un'industria compatibile capace di dare occupazione e di dare prospettiva e crescita alla provincia. Ecco, visto che questa è la prima volta che succede un fatto del genere viene quasi da pensare che se fossimo rimasti diciamo così nella famosa prima Repubblica tanto vituperata con Presidente del Consiglio un Craxi e un Anderotti questo non sarebbe successo mai probabilmente o no? Questa è una considerazione col senno del poi su cui è possibile discutere ampiamente. Certo è che il momento che stiamo vivendo è complicato e per noi mette a rischio davvero il senso della democrazia in questo Paese. Non c'è dubbio che l'idea che un investitore straniero investe nel nostro territorio e per questo può pensare di dettare la linea fino al punto di voler imbavagliare la protesta sociale è un elemento di scivolamento autoritario assolutamente antistorico per la nostra terra il nostro Paese e che va rispedito al mittente con forza e ripristinato il rapporto fra diritti e libertà.